Grazie a tutti. Il 15 maggio, scusate, ho iniziato la mia storia in Venezia e Campi, è proprio quel giorno, nel senso che l'avevo seguito nell'appello e ho partecipato a quell'assemblea. L'appello era semplice nei suoi contenuti, cioè di fronte allo spazio della politica a cui stavamo assistendo, a cui abbiamo assistito per anni, un gruppo di cittadini veneziani si è accompagnato, aveva scritto una sorta di manifesto, un appello che chiamava raccolte cittadini. Era un modo, si propone appunto, di individuare i temi che interessava la città e cominciare a disfruttere. Dopo quell'anno 15 maggio le cose a Venezia sono precipitate, sappiamo benissimo cosa è successo, la politica quindi ha fallito terribilmente, la catastrofe, la catastrofe insomma istituzionale della società da Venezia, lo scandalo Mose, le dimissioni dell'Aggiunta e quant'altro. E quindi quella chiamata del 16 giugno era proprio su questi temi, quindi ci siamo raccontati lo sgomento, quella giornata. Quindi ci siamo detti, soldi pubblici sono stati utilizzati per tantissimi scopi privati, la corruzione è avvenuta nonostante tanti errori minuti di controllo, la magistratura è intervenuta sulle responsabilità ponate e nani, però ancora nulla sta succedendo per quelle politiche. E io ho anche consapevole, va cominciando a raccontarci, che se non si cambia il sistema, le persone che sostituiranno gli attuali corrotti, si troveranno ad operare dalle stesse identiche condizioni e probabilmente con gli stessi risultati. Quindi per originare tutto questo è importante che torniamo ad occuparci della cosa pubblica. È un impegno per tutti noi, cioè significa dedicarci del tempo, però è anche un modo per responsabilmente prendersi cura della città. Per tanto tempo non siamo stati consigliati a lasciar perdere questo settore, era una cosa in cui si poteva la politica, i progetti, era meglio lasciarli ai politicanti di mestiere, agli esperti. Noi se volevamo seguire le cose potevamo al massimo seguire un TV attraverso il talk. Abbiamo visto con po' di risultati e quindi abbiamo, assieme ad altre associazioni, il 10 luglio ci siamo ritrovati in questa sala e abbiamo cominciato ad interrogarci sui nostri desideri sulla città. E quindi abbiamo individuato alcuni grandi temi, il turismo, il lavoro, la casa, il trasporto pubblico, i giovani, gli anziani, e per chi ha bisogno. E quindi abbiamo cominciato a dire la nostra. Qui abbiamo riportato un po' i cartelloni di portata giornata, in cui sono riportate veramente tantissime indicazioni e anche tanta voglia di partecipare. Tra le cose che sono state dette quel giorno, io mi esplopolate qualcuna sul sito di Valencia Cambia, però anche se ci sono comunque i socconti di quelle giornate, e quelli che mi sembrano più funzionali all'organizzazione di questa serata. Quindi far funzionare la rete, la rete delle associazioni di coerenza per fortuna è ricchissima. Individuare spazi pubblici dove trovarsi, perché uno dei più ostacoli maggiori è proprio la difficoltà per la gente, per chi come noi vuole trovarsi alla sera per discutere di politica o anche di altro. Individuare i canali di informazione, perché i canali classici non parlano delle cose che ci interessano. E quindi forse dobbiamo cominciare a far sistema anche dei tanti canali di informazione piccoli, magari scollegati tra di loro, che però ci sono e che ci danno e che ci fanno capire cosa sta accadendo. Conoscere le pratiche di città che hanno già sperimentato con successo la partecipazione dal basso. Conoscere e proseguire le esperienze dei comitati e associazioni che praticano la partecipazione. Qui ne abbiamo elencati alcuni. Io ad esempio faccio parte del Veneziano Gas, però conosco la bellissima avventura di Poveglia, del coordinamento Io Decido e tanti altri. Ci sono tanti piccoli esperimenti in città che dicono che la città vuole occuparsi del bene comune, vuole occuparsi dei cittadini, vuole occuparsi delle cose che ci sono vicine. Quindi partire dalle esigenze e dai bisogni che la città esprime. Ecco, questa è la prima necessità. Cosa abbiamo fatto dopo quella giornata? Abbiamo sostanzialmente individuato 15 tematiche di nostro interesse, come Venezia cambia, sto parlando. Abbiamo attivato 12 tavoli di lavoro, abbiamo incontrato e partecipato ad attività con altre associazioni, abbiamo organizzato momenti di incontro e approfondimento. Mi piace dire che tra i tavoli che Venezia Cambio ha organizzato, appunto 12, dalla residenza, abbiamo parlato di legge speciale, città metropolitana, beni comuni, laicità, sono tanti i temi, ognuno di questi aveva un referente e le persone che si sono iscritte per lavorare su questi temi vanno da gruppo più numeroso di 19 al gruppo meno numeroso 6 persone, però questi sono gli iscritti, poi in realtà hanno partecipato anche altri che si trovavano a passare lì o comunque che erano stati interessati. Tra altri esempi ci siamo attivati per capire cosa le altre città hanno fatto e quindi abbiamo approfittato dell'esperienza di alcuni di noi, dei contatti di alcuni di noi, abbiamo contattato il sindaco di Udine che ci ha raccontato questa bellissima esperienza di Udine dove una lista civica è al secondo mandato, insomma, il sindaco dell'Università di Udine e anche forse un po' meno conosciuta l'esperienza di Padova, dei 2020, una lista civica che è nata in poche settimane e che nel giro di alcuni mesi è riuscita ad ottenere poi alle comunali di Padova al 10% per cui non lasciamoci scoraggiare dei numeri che invece la stampa tradizionale ci racconta. Quindi la strada che dobbiamo seguire certo non è semplice, però dobbiamo tracciarla e possiamo farlo appunto se le tante associazioni che per fortuna vedo qui anche molto ben rappresentate riescono a mettere assieme le proprie esperienze e quindi l'obiettivo è quello di riguadagnare i cittadini alla politica e la politica alla partecipazione democratica. Mi ha finito, grazie.